La mia compagnia è andata da sola, ho inquadrato il territorio per far sapere alle mie compagne di nazionale come si sta. Gli ho detto che si sta bene e quindi adesso tutti hanno voglia di prendere parte ai prossimi giochi olimpici. Ecco, in questi raduni della nazionale stai trasmettendo quella che poi è stata la tua esperienza lì a Rio? No, cerco di fare il possibile anche se lì in nazionale tutti hanno molta esperienza, abbiamo una campionessa del mondo, abbiamo medaglie europee e quant'altro. Quindi è una bella squadra e ognuna fa da timone a qualcun'altra. E come tu negli ultimi anni hai avuto tantissimi successi a livello individuale, ora il tuo obiettivo immediato è quello dell'europea squadra, poi appunto c'è il Rio come l'hai detto anche nella nostra trasmissione. Sì, gli obiettivi poi aumentano, quindi cerchiamo di prendere degli obiettivi un po' più alti. Intanto l'impegno principale è quello che non deve mancare, noi ci impegniamo. Ecco, ci auguriamo che sarai tu a fare compagnia a Dimman e alle prossime Olimpiadi. Me lo auguro senz'altro anch'io. Ovviamente scongiuri a parte perché... Certo, certo, incrociamo le dita.